Siamo qua a cambiare tecnica, ve ne farò vedere un'altra praticamente facciamo una cala che io, vediamo questo che non c'è, qui, 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 niente, questo vedete? galeggiante, che serve poi un artificiale galeggiante e due camole finte sotto, ottimo abbiamo trovato proprio il branco qua, perché vedo una mangiata una dietro l'altra sta mangiando anche adesso io lo muoviamo un po' sotto il naso ecco no, è andata è stato messo no è andata anche sto giro che palle chissà se riusciamo con questa tecnica un po' diversa bisogna muovergli era un po' sotto ecco 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 ottima ripresa attacchiamo il minimo dispensabile gran pezzettino e rilasciamo ottimo direi ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No? Ci siamo ragazzi, ci siamo. Grazie a tutti. Eccola. Grazie a tutti. Ciao ciccio, ciao. Grazie a tutti.